che ci parlerà un po' dello sviluppo e delle opportunità del biometano e un po' anche delle bioenergie in generale e farà un accenno anche sui impianti di biogas elettrico e delle ultime novità. Grazie. Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito perché quando escono questi nuovi decreti qualunque occasione per diffondere l'informazione, cercare di capire come muoverci, come mettere gli intervenditori nelle condizioni di prendere delle decisioni è sempre di assoluta importanza. Abbiamo sia il nuovo decreto uscito a fine 2022 che le procedure applicative che sono poi la parte più importante che ci dicono come riusciamo ad applicare poi in concreto il decreto. Intanto vediamo di che cosa si tratta. C'è stata con questo decreto una revisione generale di tutti dei meccanismi di incentivazione alla produzione di biometano e sono state istanziate, come sapete, risorse di non poco conto perché siamo a 1,7 miliardi di euro. Chi può accedere a questo nuovo decreto? Gli impianti agricoli esistenti, riconvertiti anche in parte, purché alimentati da matrici non rifiuto, adesso non parliamo delle eccezioni, se no divabbiamo troppo, e gli impianti nuovi alimentati sia da matrice agricole che da rifiuti. Occorre però completare la realizzazione delle opere entro il termine inderogabile del 30 giugno del 2026 e non devono essere già stati avviati interventi di qualunque genere prima della pubblicazione della graduatoria. Vediamo pian piano di che cosa si tratta. Come funziona questo decreto? Vengono aperte delle procedure competitive, ne sono previste due all'anno, quest'anno ne abbiamo fatta una perché è quella in ritardo del fine 2022 e per ogni anno ci sono dei contingenti di potenza, scusate, di capacità produttiva non di potenza messi a disposizione. Come potete vedere è distinto in 67 mila non standard metri cubi ora complessivi per il 2022, 95 mila nel 2023 e 95 mila nel 2024. Viene aperto questo bando la cui apertura dura 60 giorni e il GSE deve valutare i progetti entro i 90 giorni successivi alla chiusura di ciascuna procedura Queste sono le date, quindi si sa già fortunatamente, almeno questo, quando si potrà accedere a questo meccanismo di incentivazione. Vedete che la prima procedura è stata aperta dal 30 di gennaio al 31 di marzo di quest'anno sempre quest'anno ce n'è un'altra a fine luglio, dal 14 di luglio al 12 di settembre e un'altra a cavallo tra 2023 e 2024 è indicata la relativa data in cui devono dirci se il progetto passa e accede ai meccanismi Ci sono dei tempi stretti perché se non si entra in esercizio entro il 30 giugno 2026 e non si rendi contano le spese entro il 30 di luglio del 2026 si perde il contributo in conto capitale ma non l'incentivo alla produzione C'è un tempo massimo entro cui occorre entrare in esercizio che sono 18 mesi ma non voglio entrare in troppi dettagli preferisco arrivare in fondo dandovi le informazioni di sostanza. Questa è l'informazione più importante Per accedere alla procedura competitiva occorre essere in possesso del titolo autorizzativo o chiaramente di documento equivalente se si opera in procedura semplificata. Avere il preventivo di allaccio alla rete se previsto, accettato e dimostrare il rispetto dei requisiti di sostenibilità. Poi vediamo di che cosa si tratta Inoltre per tutti gli impianti indipendentemente dalla localizzazione deve essere prevista una vasca di stoccaggio coperta con recupero di biogas di capacità tale da contenere la produzione di almeno 30 giorni per ridurre le emissioni complessive del sistema Se l'impianto è poi in zona vulnerabile ai nitrati e con carico di azoto zootecnico superiore ai 120 kg per ettaro la dieta deve prevedere almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici Quel limite in termini di carico di azoto zootecnico è stato inserito perché? Perché abbiamo province, zone in cui pur essendo dichiarate vulnerabili non c'è zootecnia Faccio un esempio qua in Lombardia abbiamo la provincia di Pavia, in Emilia Romagna c'è la provincia di Ferrara E quindi chiaramente quando è valenata questa questione del 40% in quelle zone E' detto beh noi come facciamo a riconvertire che gli effluenti zootecnici non ci sono Quindi inserendo questo limite, che è un limite che in Regione Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte si verificano molto facilmente Si capisce se si deve avere anche nella dieta il 40% in peso di effluenti zootecnici In caso di impianto che riconverte parzialmente, quindi continua a produrre energia elettrica per gli anni di incentivazione che gli restano E produce biometano, occorre che nella dieta presente nell'autorizzazione sia chiaramente spiegata la dieta e la relativa destinazione Cioè quanta e quale biomassa dal biogas che continuerà a produrre energia elettrica e quante e quale biomassa andrà a produrre il biometano Quindi l'autorizzazione deve partire bene, cioè deve già prevedere la dieta giusta anche per la verifica della sostenibilità Entriamo in un altro aspetto importante Allora, ripeto, questo decreto incentiva la produzione di biometano sia per i trasporti che per altri usi E la tariffa incentivante è esattamente la stessa Che differenze ci sono tra queste due destinazioni? Delle differenze di sostanza, nel senso che per il biometano che andrà ai trasporti Devo usare solo matrici che danno biometano avanzato L'impianto di Emilio produce biometano avanzato perché usa biomasse avanzate E ai fini della sostenibilità deve dimostrare di risparmiare almeno il 65% di emissioni Rispetto al cosiddetto combustibile fossile di riferimento Che è quella fonte fossile che con il nostro biometano per i trasporti andiamo a sostituire Quindi bisogna produrre un biometano che abbia meno, adesso tanto per darvi un'idea del numero Meno di 33 grammi di CO2 per megajoule di energia Perché se fate il calcolo il 35% di 94 da quel numero Ma facciamo un passo avanti Per gli altri usi invece non abbiamo nessuna limitazione alle biomasse utilizzabili Possiamo usare ancora anche il mais Tanto per andare dritto al sodo Ma quello che conta Ho poi il paletto del 40% di effluenti zootecnici Se sono nelle condizioni che dicevamo prima Ma quello che conta è il rispetto della sostenibilità Io adesso di questo tema non ne parlerò troppo perché se no vi tengo qua fino al 2 di stanotte Che non è il caso E quindi risponderò poi alle domande Comunque quello che conta è garantire un risparmio più difficile Risparmiare almeno l'80% rispetto a un numero più basso di 80 grammi Quindi libertà di azione nella dieta Ma comunque scordatevi di fare del biometano per altri usi solo con del mais Perché le emissioni sarebbero proprio alte Sempre per andare dritto al sodo Bisogna trovare la giusta dieta Un po' di mais, un po' di altre colture, un po' di sottoprodotti, un po' di effluenti zootecnici E l'impianto fatto bene in modo tale che le emissioni raggiungano Siano talmente basse da risparmiare e da consentirci di risparmiare l'80% C'è una norma UDI che aiuta a fare i calcoli velocemente Ma di questo ne parleremo la prossima volta Rispetto al decreto 2 marzo 2018 Che è già il primo decreto che ha incentivato il biometano per i trasporti C'è qualche differenza perché sono diventati più rigidi in relazione alle matrici utilizzabili Ma qui risponderò alle domande se poi ci saranno Quello che conta E su cui insistiamo molto E' proprio questo Visto che per poter accedere alla procedura competitiva Qualora si decida di riconvertire o costruire un nuovo impianto Occorre già avere in mano l'autorizzazione E con quella dieta indicata in autorizzazione Io devo già sapere se vado in trasporti oppure no E con quella dieta in autorizzazione Devo già fare una prima valutazione se riesco a risparmiare Quello che mi viene chiesto Ecco che diventa importante indicare in autorizzazione O nella relazione di progetto che allego La dieta Quindi quali e quante biomasse intendo utilizzare D'accordo? Questo è di fondamentale importanza Perché altrimenti non si può accedere alla procedura competitiva La certificazione della sostenibilità In fase di accesso alla procedura Si può fare in due modi Il GSE ha messo a disposizione un tool per fare il calcolo Dove metto dentro le quantità annue delle mie matrici E fa il calcolo Se ho il tenore di umidità metto almeno quello Il sistema fa il calcolo E ci dice sì o no Ok? È un tool semplificato Qualora il tool dica no Non sei, non risparmi abbastanza È comunque possibile far fare una relazione Ad un tecnico abilitato Quale un agronomo iscritto all'ordine Ok? Il criterio di rispetto della sostenibilità al risparmio Può anche essere usato come criterio di priorità Visto che è una procedura competitiva Ok? Ma qualora si voglia usare come criterio di priorità Bisogna avere la relazione Il tool non può essere utilizzato Su questo fronte andiamo avanti Entriamo nell'aspetto economico Questo decreto ci dà Il 40% In conto capitale Del costo di realizzazione dell'impianto Ok? Non sono previsti anticipi Viene dato il tutto a saldo D'accordo? E una tariffa incentivante Alla produzione di biometano Per 15 anni Come potete vedere Quello che ho già detto prima Il contributo in conto capitale È erogato solo a consuntivo A seguito della comunicazione Di entrata in esercizio La tariffa di riferimento Come ho già detto È posta base d'asta È la stessa Indipendentemente dalla destinazione del biometano Sia che si vada ad altri urli Che si vada ai trasporti Mentre la tariffa è diversa Tra gli impianti alimentati Da matrici agricole Perché è più alta Rispetto agli impianti alimentati A rifiuti Per il contributo a fondo perduto Alla realizzazione Chiaramente ci sta Che abbiano dato Dei massimali di spesa Ok? Perché questo in qualche modo Aiuta a impedire Che i prezzi lievitino Senza controllo E quindi qua vedete Che i costi Specifici di investimento Sono differenziati Tra impianto in riconversione Piuttosto che impianto nuovo E in funzione della taglia Come potete vedere D'accordo? Per cui L'impianto da 250 standard Metri cubi Nuovo A fronte di un investimento Massimo ammesso Di 7,25 milioni di euro Prenderà un contributo A fondo perduto Di 2,9 milioni di euro Se invece È una riconversione Il costo massimo ammesso È poco più di 3 milioni di euro E prenderà un contributo A fondo perduto Di 1,26 Questo è un esempio Sì, ok Sì Il 250 standard Metri cubi Ora di metano È il corrispettivo Del megawatt elettrico I 500 metri cubi Ora di biogas Ho fatto bene a dire Non per che ho Do un po' per scontato Ma assolutamente Mentre vedete Che gli impianti alimentati A rifiuti Hanno un costo Massimale di spesa Più alto Ma Solo per I nuovi impianti Non è finanziata La riconversione Gli impianti alimentati A rifiuti Le spese ammissibili Adesso non stiamo A entrare nel dettaglio Se no Ripeto Facciamo Facciamo le ore piccole Chiaramente Ci sono Sono dati Dei limiti Poi chiaramente Uno ci può mettere Tutto Se sta dentro Nei massimali Se non sta dentro Nei massimali Non potrà metterci Tutto Dovrà decidere Fondamentalmente D'accordo Comunque Trovate tutto Poi anche scritto Nelle procedure Vediamo L'altro aspetto Interessante La tariffa Di riferimento Per capacità Produttive Sino a 100 metri cubi Ora Siamo a 115 euro Come tariffa Di riferimento Per megawattora Mentre Sopra I 100 standard Metri cubi Siamo a 110 Il mondo Dei rifiuti Prende 62 euro A megawattora Questa è la tariffa Di riferimento Il problema Che È una tariffa Che Per gli impianti Che partecipano Le procedure Dal 2024 Sarà ridotta Lo dice il decreto Del 2% E Siccome è una procedura Competitiva Bisogna Comunque Indicare Una percentuale Di ribasso Di almeno L'1% La percentuale Di ribasso Può essere Comunque Minimale Rispetto all'1 Perché Si può Arrivare A due decimali Quindi Uno può dire Propongo Un ribasso Di almeno L'1,01 Ok Per richieste Di accesso Maggiori Rispetto al contingente Ovviamente Va avanti Chi Ha offerto Il ribasso Maggiore In questa fase Insomma Diciamo Che non si prevede Che ci sia Un grosso rischio Di saturazione Dei contingenti Inizialmente Però Staremo a vedere E' comunque Previsto La possibilità Di rivedere La tariffa Andiamo avanti La tariffa E' riconosciuta Sulla produzione Netta Nel senso Che i consumi Per gli ausiliari Vengono Deportati Perché Per assoluto Rigore Di impostazione Come voluto Dalla Commissione Europea La deportazione Dei servizi Ausiliari Può essere Forfettaria Infatti Nelle procedure Sono indicate Delle percentuali Oppure Si possono Prevedere Dei momenti Di dimostrazione Dei propri Ausiliari Oppure Come vediamo Dopo Se gli ausiliari Sono a loro volta Serviti Da energia Rinnovabile Fornita Ad esempio Da un cogeneratore Non c'è nessun taglio Ci sono procedure Le modalità Sono ben descritte Nelle procedure Applicative La tariffa Omnicomprensiva Un po' come La Tio Elettrica E' La tariffa Di riferimento Decurtata Della percentuale Di Di Ribasso La tariffa Premio Invece E' La tariffa Omnicomprensiva Decurtata Del prezzo Medio Del gas Naturale E delle Garanzie D'origine Ripeto Non è Banale L'argomento Non riusciamo A sviscerarlo Intorno Stasera Quello che Conta È capire Questo Per gli impianti Di capacità Produttiva Fino a 250 Standard Metri Cubi Allora Ripeto Il megawatt Elettrico Equivalente Qualora Sia nella situazione Di mettere In rete Con obbligo Di connessione Di terzi Può scegliere Di cedere Il prodotto GSE E si prende La tariffa In totto Incentivo Valore Del gas Valore Della Garanzia D'origine Ok Se invece Non è Nelle condizioni Di mettere In una rete Con obbligo Di connessione Di terzi Rete Slau Per Ritenderci Oppure Ha una capacità Produttiva Più Elevata Sopra E 250 Metri Cubi Ora Prende La tariffa Premio Prende L'incentivo La molecola La vende Autonomamente La deve vendere Autonomamente Ma Il totale È comunque Sempre Dato Dalla Tariffa Omnicoprensiva Per quanto Riguarda Allora Capisco che Non sia Non è così Immediato Però Insomma Siamo poi Qui per Cercare di Spiegare Meglio E rispondere Alle Domande Come dicevo Prima Per quanto riguarda Gli ausiliari Vedete Nelle procedure Sono state Determinate Per le Divanze Sono state Individuate Delle sezioni Di impianto E stabilite Delle percentuali Forfettare Di deportazione Però C'è appunto La possibilità Di Un aggiustamento Un attantum Facendo Delle Misure Specifiche Per le diverse Sezioni Appi a dimostrare No guarda Che io non Consumo Quello che tu Mi dici E mi vuoi Deportare Consumo di meno Oppure Addirittura Nei casi In cui Gli ausiliari Sono alimentati Da fonte Rinnovabili Tutti i mesi Ti mostri Che hai Usato Fonte Rinnovabile Per alimentare Quindi Energia elettrica Calore Per alimentare Il tuo impianto Di biometano E quindi Non ti viene Deportato Nulla Allora Questo è Il quadro Sintetico Del decreto Biometano Il tema Sostenibilità È un tema Con cui Tutti gli impianti Di biogas Agricoli Soprattutto Soprattutto Una certa taglia Che producono Biometano Devono E dovranno Fare i punti Regolarmente Ormai È una strada Tracciata Mi permetto Di dire Questa Questa cosa Perché Da un lato È un onere In più Sono sicura Che Emilio Mi spiegherà In poche parole Di che cosa Si tratta Ma È la strada Obbligata Per dimostrare Che l'agricoltura È in grado Di produrre Le solite parole Ma è così Civo Mangimi E anche Bioenergie Perché le bioenergie Quando le produce Sono prodotte In modo Sostenibile Evitando Una competizione Con il settore Alimentare E quindi La strada Della certificazione Della sostenibilità È un po' Una strada Obbligata Due slide Sulla produzione Sull'incentivazione E la produzione Elettrica Perché sappiamo Tutti benissimo Che non è da tutti Non tutti Riusciranno A convertire Biometano Per mille motivi Per distanza Della rete Per dimensione Eccetera Eccetera Quindi Il cosiddetto Decreto Fer 2 È in Lavorazione Il Civa Speso E continua A spendere Energie Su questo fronte Il decreto È stato Notificato A Bruxelles Non è ancora Tornato Indietro Quindi Stiamo Aspettando Che ritorni I punti salienti Sono questi Costruzione Di nuovi impianti Fino a 300 KW E quindi Queste sono Le richieste Inserite Nella versione Inviata a Bruxelles Però Ripeto Non sappiamo Se quante Siano state Accettate Quindi È stato Chiesto Con forza Che per Gli impianti Fino a 300 KW Nuovi Non venga Imposto Nessun Limite Di distanza Dalla rete Del gas Perché è L'impianto Aziendale Per la Riconvenzione Degli impianti Esistenti Si è lottato Fino alla Morte Anche con L'aiuto Della conferenza Delle regioni E quindi Quel limite Di 3 Km Di distanza Dalla rete È stato Ridotto A un Km E mezzo Quindi Se si è Oltre Il chilometro E mezzo Si ha Diritto Questa Questa Che è È stato Chiesto Di proseguire La posizione Elettrica Sicuramente Con Anche con Il ferdue L'obbligo Di copertura Dello stoccaggio Per 30 giorni Con Recupero Di biogas Ci sarà Perché Il CH4 Resilvo Del digestato Ha potente Effetto Serra Il fatto Di avere La vasca Coperta Aiuta Moltissimo Anche per fare I calcoli Della sostenibilità Quando si ha Questo obbligo A rientrare Più facilmente E quindi Da più libertà Poi sulla dieta Da utilizzare Sicuramente Si andrà Verso Un adeguamento Della dieta In qualche maniera Quindi L'impianto A solo Mais Insomma Lo sappiamo Un po' tutti Ormai L'abbiamo Un po' capito Tutti Che dobbiamo Un po' Poi Anche perché In realtà Poi quanti sono No? Non penso Che siano ancora Tanti E Rispetto Dei criteri Di sostenibilità Anche per gli impianti Che producono Energia elettrica Ma sopra Soglia Se ripeto Nel momento in cui Si aderirà A un nuovo Sistema Di Incentivazione Io mi avvio Alla fine Quello che Mi preme dire Che il Cib Con Cib Service È in grado Di affiancare Gli impianti Le aziende agricole Che Devono capire Che strada Prendere E soprattutto Per Il tema Riconversione Biometano Sappiate Che Cib Con Cib Service Fa un servizio Che consente Di sapere Velocemente A che distanza È l'impianto Dalla rete E a che pressione Prima informazione Poi Affianchiamo Gli impianti Per Affrontare Il tema Della sostenibilità Anche fare Una prima Verifica Della dieta Ipotizzata Perché Perché Nel momento In cui La metto Nell'autorizzazione Sono sicuro Che poi Posso andare Avando Quindi C'è proprio Un mero servizio Di semplice Cattolo Molto veloce Per capire Se quella dieta È quella Giusta Dopodiché Abbiamo affiancato Diversi impianti A partecipare Alla prima Procedura Che si è chiusa Al 31 Di marzo E poi Vabbè Servizi Di qualifica Degli impianti Io con questo Ho Chiuso Grazie Grazie L'orella Per la Chiara Presentazione Mi rendo conto Che Sì Una tematica Abbastanza Complicate E Articolate Quindi Per chi Le sente Magari Per la prima Volta Per essere Un po' Impegnativo Quindi Mi raccomando Per dopo Se qualcuno Ha domande O curiosità Di 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 Non avere Vergogna Di Di Farle Curle Io mi sono Appuntato Alcune cose Poi dopo Magari Mi è piaciuta Molto Intanto La La frase Che L'agricoltura Può produrre Veramente Energia In maniera Sostenibile Ma per Davvero E questa È una cosa Che Anche noi Come associazione Dobbiamo Dobbiamo Far Comunque Passare La bandiera Scusate Non vuole Sapere Di stare Su questo Però E niente Dicevo Dobbiamo Cercare Di far Passare Portare Comunque Fuori Questo messaggio Perché Siamo Spesso Visti Comunque Come Gli Inquinatori Del pianeta Mentre Non Sottraiamo Comunque Civo Per Per Creare Energia E quindi Questa Rispetto Per dire A nave Gassiera Che viene Fa Due o tre mesi Di navigazione Poi Poi Bisogna Rigassificare Insomma Mi sembra Abbastanza Una cosa Abbastanza Complicata E costosa Sia a livello Economico Che Ambientale Quindi Quindi Questo Dobbiamo Inserare In finito Come associazione A Fare Propaganda E quindi A portarlo fuori Lascio la parola Emilio Che ci Farà vedere Il suo Key study E ci Farà vedere Un po' Cosa Ha fatto Nella sua Azienda Ci dirà In maniera Un po' Concreta Come Convertire L'impianto E poi Gestirlo Anche Penso Che sia Una cosa Che interessa Un po' Tutti Capire Come A fare Grazie Grazie Paolo E grazie A tutti È un piacere Essere Questa Sera Tra l'altro Ho dovuto Nei Per fare Tanta Scala Perché Io abito A Zanego Con la mia Famiglia Da Generazioni Mio Nonno Omonimo Mi sgriderà Perché non so Quante generazioni Sono Di cui Io Faccio Parte Di questa Storia Ormai Io Magari Vi parlo Qui A brevemente Un po' Del mio Percorso Prima Prima Di essere Rientrato In Azienda Io Ho Fatto Cinque Anni A Milano Mi sono Lavorato In Scienze Rari E poi In Biotecnologie E poi Sono Stato Circo Un anno E mezzo In America In State University In cui Ho Fatto Vedere A loro Che una Volta Sono Stati Molto Interessati E Ho Lavorato Con Questo Mi Advise Da Professor Tom Richard Che Era Specializzato Direttore Di Questo Dipartimento Di Scienze Naturali Soprattutto Sullo Studio Del Suolo E L'acqua Io Ho Fato Una Presentazione Sulla Mia Tesi Triennale Lui Fuceva Parte Di Chi Ascoltava Questa Presentazione Ha Presentato Lui Un Suo Paper Parlandone E Abbiamo Lavorato Sui Terreni Di Rumel Io Ho Portato I L'apporto Di Carbonio Di Gestato E Stava Nascendo Un Tempo Insomma Abbiamo Fatto Tanti Lavori Sui Nostri Campi E Alla Fine Ho Presentato Questo Lavoro Di Mia Esperienza E In America Si Parlava Del Campo Ottaglia Del Campo Di Voci Di Gumel E Quindi Da Abitante Di Zanengo E Stato Assolutamente Un Orgoglio Poi Ho Deciso Di Rientrare In Azienda E Negli Anni Piano Piano Ci siamo Abbiamo Incrementato Un Numero Dei Capi Ammettato Di Biogas E Di Superfici Coltivate Oggi Noi Ungiamo Circa 380 A 4% Animali In La Trazione Abbiamo Una Superficie 530 Etterie Due Impianti Biogas Il Primo Del 2009 Impianto Teni E Poi Un Altro OPS Da 650 Kilo E Il Primo Impianto L'impianto Teni E E Sato Poi Convertito In Impianto Da 630 Standard Metri Cubi Più Il Progeneratore Che Fino A Termine La Tarita Andava Avanti A Desistere Andava Avanti A Funzionare Già Papà Aveva Lavorato Sull' Installazione Di Queste Tubazioni Interrate Che Portano Il Digestato In Tutti I Terreni Della Azienda Quindi Noi Non Abbiamo Botti Che Girano Ma Certo Ci Sono Queste Queste Interrate Di Pubazioni Che Porta Digestato A Tutti Gli Apezzamenti L'ombricale Si Attacca E Interrate Digestato Poi All'interno Della Presentazione Vedremo Questo Più Nel Dettaglio Abbiamo Una Presentazione Nella Parte Delle Strutture Vecchie Grigliate Con Bio Circa Quindi Tutto L'icona Viene Recuperato Immediatamente Viene Inviato Con Delle Pomme Apposite In Impianto Quindi Sempre Molto Presto Che Questo Va Molto Bene Questo E' come Sviluppata Sono sviluppati Gli appiazzamenti A nostra Azienda I due pallini Che vedete Sono i due digestori Del primo impianto Quindi La grossa fortuna Nostra Che appunto Sono terreni Tutti vicini E quindi Ci hanno permesso Di realizzare Questa rete Che porta Digestato In tutti i fatti Questo E' L'impianto Biovetano Non siamo Partiti A Immaginare Questo impianto 5-6 anni fa Ormai Quindi La strada È stata Lunga Mi prendono Sempre in giro Mi chiamano Pianista Perché io Sono quello Che in azienda A girare Un po' I numeri A computer Quindi I primi Studi Sulla Fattibilità Di questo Progetto Ci sono andato Per preparare Questa presentazione Per anno 2016 Quindi E' un po' Che si lavora Voi vedete In questa immagine I primi Due Sono I due Grossi Digestori Che sono Stati Realizzati In aggiunta A l'impianta Esistente Poi nella Foto successiva Si vede meglio La parte dietro E' tutta quella Che lavora Sulla pulizia E la separazione Della CO2 Dal metano Perché Questo biogas È fatto circa Il 55% Di metano E il resto È a livello Carbonica E altri gas Il gas Sporco Diciamo Questo biogas Viene mandato In pressione A una Grossa torre Che toglie H2S Perché è nocivo Alle membrana Il gas Il gas privo Dell'H2S Poi passa In altri sistemi Di filtri Che si chiamano Filtri carboniattivi Che vengono Totti BioC Che sono Un'altra tipologia Di gas Sempre nociva Alle membrana Questo gas Un po' a sporco Viene pulito Tra questi biogas Ma ancora Composto Sia da CO2 Che da metano Va in un grosso Compressore E il gas Compresso Entra in Questi Solti Di cilindrotti Sono delle membrane Giapponesi Che a grossa pressione Separano La CO2 Dal metano Dentro Sono fatti Come degli spagetti Molto sottili E questo gas In pressione All'interno Degli spagetti Questo membrana È permeabile Quindi fa passare Delle molecole In una delle altre Quindi si ottengono Due linee di gas Quello da una parte Rimane il metano E dall'altra Il CO2 Quando La Predin Ci sono dei sensori Quindi ci sono Vari passaggi Perché fa Per me stagio Quando supera Una determinata Concentrazione Di metano La Predin Dice Ok Tu sei metano Alla 98.5% Sei in grado Di essere Immersi Quindi viene Rimandato A un altro Sistema di analisi Rianalizza Il tuo gas Se è ok Viene mandato Di compressori Che porta La pressione Alla pressione Della linea Quindi dipende La linea Snam Che pressione ha Porta La pressione La linea E viene Immesso In rete All'interno Di la cabina Snam C'è un altro Sistema di analisi Che rianalizza Il tuo gas E quindi Se il perloro Non è a posto Te lo rimanda indietro Quindi c'è Un'altra occupazione Che torna indietro E riunisce Da CO2 Al metano Quindi ridiventa Biogas E ripete tutto il giro Questo è il funzionamento A grandi linee Dell'impianto Questa è l'immagine Dell'impianto Vista dall'alto Quella che vedete Il tetto verde E' la nuova stalla Che è stata costruita Due anni fa Con i robot di mungitura E anche questo è stato Un orgoglio Per me Perché avevo tanto Insistito Su questa realizzazione Su questo sviluppo Soprattutto Con i robot di mungitura Adesso si ha permesso Di arrivare Voluzioni Importanti Qui vedete Stalla Quindi liquame Le altre stalle Sono Appena dietro Quindi vengono Tutti liquame Vengono Prelevati E immediatamente Utilizzati Poi I due palloni Che vedete dietro Sono l'impianto vecchio Quelli in primarino Invece Sono quelli Dell'impianto nuovo Il digestato Poi E' stoccato In queste due vasche Che sono le due vasche Di stoccaggio In cui Viene separata La parte liquida La parte solida Quello che L'Orella Vi ha spiegato Prima L'aspetto Sicuramente più difficile Più ostico Di fare Biometano Oggi Soprattutto Per i trasporti E' quello Di non competere A fare Questo apprezzamento Non deve competere Tra Food D'alternet Quindi All'interno Del singolo Attezzamento Noi dobbiamo Fare due colture Una dedicata al mercato E una dedicata all'energia Non possiamo più fare Mais in monocoltura E darlo all'impianto Nel Questo Stam parlando Nel 2018 Quindi Usi Biometano avanzato Per l'uso Trasporti Non Nobretti Quindi noi abbiamo dovuto Rivoluzionare Il piano economico Dell'azienda E la vedete In questi numeri Noi facciamo Circa il 20% Di mais in monocoltura L'80% Oggi Della nostra superficie E' coltivata In doppia cultura Sul 530 ettari Immaginate Che vuol dire Lavorare 900 ettari Quindi Sono Sicuramente Tanto lavoro Però Questo ti permette Di crescere Sia Con mezzotecnia Che Il punto di vista Energetico Questo è Il licenamento Voltuale Che facciamo Quindi Le varie Volture Qui Rassolvo Per il fumetto Per il critical Qui vedete Tutto Nel dettaglio Noi Abbiamo Cercato Di spingerci Sempre di più Verso L'utilizzazione Ergonomica Di gestato Che Ci permettesse Di non utilizzare Più concime Chimico Già Da Tre anni Che ne utilizziamo Ancora Direi O mai Veramente Poco C'è la spesa Per le concime Chimico Da dieci anni Si è ridotto Almeno di un decimo Rispetto Ai primi anni Utilizzano Un po' Di ore In copertura Ma perché Non abbiamo Digestato Sufficienza Perché appunto Abbiamo cercato Di ottimizzare Al più possibile In maniera Di pensare Di utilizzare Tutto il nostro Digestato Nel miglior Modo possibile Quindi Il digestato Viene separato Il digestato Penso che sappiamo Tutti di cosa parliamo E quello che rimane Alla fine Del processo Di gestione Ergonomica Quindi Separiamo La parte liquida La parte solida La parte solida Viene utilizzata Soprattutto Nei terreni Insabbiosi Nei terreni Che hanno bisogno Di Un ammendante Mentre La parte liquida Viene stoccata Nelle masche di stoccaggio E poi Stiamo realizzando Prima Era un sistema Di pompe Meccanico Mentre adesso Stiamo realizzando Un sistema Di pompaggio Completamente Eletrico In cui L'operatore Entra Nell'attezzamento Attacca Un belicale In terra E poi Quando alza Il sollevatore Criano la pompa E In remoto Puoi Gestire L'alimentazione Delle pompe In ingresso E dell'ombelicale Quindi In conseguenza Quindi tutto il digestato Viene interrato E non essendoci botti Non hai emissioni Per il trasporto E soprattutto Non hai emissioni Né in termini di odori Né in atmosfera Di Azzotto Perché appunto Il digestato È sempre coperto E viene interrato Immediatamente Il sistema Ancora più ottimizzato Che abbiamo Che stiamo utilizzando In questi anni Prima attraverso Questa macchina Che si chiama Xerian E oggi Con il ferrovetto E con altre tecnologie Che ci sono Sul mercato Il digestato Viene Noi lavoriamo Soltanto una striscia Questa gestione Coltuale Siamo a strip till Quindi viene lavorata Solo una striscia Di 20 cm E il digestato Viene anche Interrato Quindi Nella stessa striscia Noi lavoriamo Seminiamo E coltiviamo Poi Dopo Dovrebbe esserci Anche un video Sì Questa è la macchina Che lavora Vedete Ci sono poi I residui culturali Dell'anno precedente Della cultura precedente La macchina Entra Lavora la striscia Intanto Semina E in terra Il digestato E quindi Il seme Ha tutto Per poter Nascere Ovviamente Non si può fare In tutti i terreni Questa Ci vuole Insomma La testitura Adatta Per poterlo Fare Però La stiamo utilizzando Sempre più spesso Come lavorazione Vi ringrazio E insomma Per qualsiasi domanda Complimenti A loro Per la Bellissima azienda E anche per la passione Che ci metti Nel Gestirla E' sempre Sempre bello Vedere comunque Dei giovani Che si approcciano In maniera Comunque Che scientifica Al lavoro Al lavoro D'agricoltura Che sempre Più spesso Viene un po' visto Così come Come non Scientifico Non specializzato E invece In realtà Come la tua E come tante altre Comunque Dimostrano che Invece Ci mettiamo Ci mettiamo La scienza Al servizio E E lo studio Ecco dietro E anche Visto che il tuo progetto Parte dal 2016 Non siamo Un settore Ecco Avventato Lascio ora la parola A Facciamo prima le domande Ok Allora Facciamo le domande Parto io Parto io Però Io Avevo una domanda Per Lorella Rossi Un po' Sulle Matrici Non rifiuto E sui requisiti Di sostenibilità Se potevi un attimo Darci un attimo Un'idea Di cosa sono Le matrici Non rifiuto E un po' Dei requisiti Di sostenibilità Che vanno rispettati Grazie Allora Negli impianti Di biogas agricoli Questa è una Peculiarità Del biogas Agricolo Italiano Che cosa Quali sono le matrici Che possono essere Trattate L'iquamizotecnici Colture Residui culturali E Sottoprodotti Agroindustriali Ecco cosa si intende Con matrici Non rifiuto Nel senso che L'azienda Cosa si intende Per sottoprodotto Quel flusso Residuale Di un processo Di produzione Che rispetta I requisiti Del cosiddetto Articolo 184 bis Nel senso che È Un Materiale Che sa Ha un'utilità In un altro Processo produttivo Entra in impianto Senza Trattamenti Diversi Dalla normale Pratica Industriale E soprattutto Nel momento In cui viene Prodotto Si sa già Che ha Un'utilità In un altro Processo produttivo Quindi ci vuole Il contratto Di ritiro Del sottoprodotto Tra produttore E utilizzatore Un esempio Concreto La bucetta Di pomodoro È un sottoprodotto Perché Non è certo Un prodotto Perché il prodotto È la salsa Di pomodoro Quindi è chiaramente Un sottoprodotto Con un contratto Tra produttore O di utilizzatore Io dimostro Che non mi voglio Disfare Di questo materiale Quindi non è Un rifiuto Per me E nell'impianto Agricolo È ammesso Non porta danni Dal punto di vista Ambientale E quant'altro Come La bucetta Di pomodoro Posso avere Gli scarti Di cipolla Posso avere Tanti altri Materiali Come potete Immaginare Invece Qual è un rifiuto Se io ho Invece Una confezione Una lattina Di pomodoro Scaduta Che mi arriva Da un supermercato Quello è Passativamente Un rifiuto Nell'impianto Agricolo Non può Entrare Perché gli impianti Agricoli Non sono autorizzati A ritirare Rifiuti E questa è una Peculiarità Veramente Della filiera Del biogasso Agricolo italiano Che come consorzio Abbiamo sposato Fin dall'inizio Perché Abbiamo Fattato Questa scelta Ma per un motivo Molto semplice Perché noi vogliamo Tornare Far usare Il nostro digestato Per la fertilizzazione Organica Dei terreni L'Italia È la patria Dei prodotti alimentari D.O.P. E quindi Abbiamo voluto Eliminare Qualunque rischio A monte Del fatto Che nel digestato Si potesse Trovare Un qualche cosa Di indesiderato Che sia Il pezzettino Di plastica Grosso Che regola Che regola Che regola l'uso Agronomico Degli influenti Quello delle emissioni Che stanno Sulla testa Del nostro Biometano Bisogna considerare Le matrici Che si utilizzano Chiaramente Se uso Delle colture O delle emissioni Sulla testa Di una coltura Perché Ho usato Concime Ho usato Energia Gasolio Se uso Un sottoprodotto Per la sua Produzione Non ho emissioni Poi c'è La sezione Impianto Perché Uso dell'energia Per far funzionare L'impianto Nell'impianto C'è poi Anche lo stoccaggio Del digestato Se è scoperto Ha delle emissioni Più alte Se è coperto Ed è una strada Obbligata Sappiatelo Anche Per la ricomberta Anche se Chi continuerà A produrre Energia elettrica Con il nuovo Decreto Fer 2 Ammesso Che arrivi E che Una cosa Che non ho detto Prima Che nel decreto Fer 2 Ricordo Non c'è la tariffa Perché la tariffa Sarà determinata Con un atto Successivo Ma sarà Una tariffa Impostata In termini Di copertura Dei costi Di funzionamento Comunque Anche chi Continuerà A produrre Energia elettrica Dovrà fare I conti Con questo aspetto E ripeto La vasca di stoccaggio Coperta Con recupero Di biogas Per almeno Trenta giorni È una condizio Sine qua non Sarà una strada Obbligata Ok A prescindere Dall'incentivo Anche per chi Sarà sotto Soglia E non dovrà Certificare La sostenibilità Saranno Comunque Previsti Quei requisiti Tecnici Che già Di per sé Garantiscono Una produzione Di un biometano Con delle emissioni Più basse Sino ad arrivare Dicevo Quindi ho le matrici Che possono avere Delle emissioni Se sono colture Ho l'impianto E poi ho l'efficienza Dell'upgrading Perché Nell'upgrading Ovviamente Nel cosiddetto Off gas Un minimo Di perdita Ancora di CH4 Ci può essere Ok Può essere minimale Può essere Dell'1% E quindi Anche quelle Sono emissioni Quindi l'insieme No La somma Di queste emissioni Dati da queste fasi Ci consente Di arrivare A quel numero Finale Che ci permette Di dire Sono sostenibile O meno Ma c'è una norma UNI Che ci aiuta Moltissimo In revisione Perché ci aiuta Moltissimo Perché Contiene Tutte le emissioni Per tutta una serie Di colture Per i Sottoprodotti E quant'altro Per consentire Gli operatori E noi Lì Io personalmente Ho dedicato Sempre moltissima Attenzione Perché è molto utile Consente Appunto Agli operatori Di fare i calcoli In modo più Facile Perché si trova Dei numerini Già pronti Ok In fase Gestionale Poi la Sostenibilità Va dimostrata Per ogni Lotto Prodotto Cosa significa Essere certificati E poi Emilio Ve lo sa dire Ve lo racconta Vuol dire Chiamare Un organismo Di certificazione Accreditato Accredia E sono sempre Gli stessi CSQA SGS Buro Veritas Che Vengono In azienda E verificano Che cosa Se voi Siete in grado Come gestori Dell'impianto Di biogas Biometano Di garantire Tracciabilità E rintracciabilità Di tutte le matrici Che utilizzate E che Tutti i lotti Tutta la produzione Di biometano Ha sulla testa Sempre un numero Le emissioni Basse Non è che si fa Una volta La verifica Ok Dopodiché L'organismo Di certificazione Vi dà il suo numerino E poi siete È il produttore Che rilascia Il certificato Di sostenibilità E senza Certificazione Non si prende L'incentivo Non c'è Alternativa Quindi queste In poche parole Non ho detto Neanche poi Così poche Però insomma Ho cercato Di dare I concetti Di base Posso fare Una richiesta Volevo chiedere Avete parlato Di sottoprodotti Sì Concenti di pomodoro Rispetto al pomodoro Faridetta di mais Rispetto alla Grandella di mais Faridetta o sottoprodotto Sì è un sottoprodotto Di lavorazione Dei cereali Esatto Allora Se si va Ai trasporti Bisogna verificare Molto bene Che sia Una biomassa Ammessa Per i trasporti Perché a memoria Alcune me li ricordo Alcune no Quindi A scarso di Guivoci Per non dire Sciocchezza Mi vado a prendere La mia bibbia E mi vado a verificare Voce per voce Se Per andare Agli altri Usi Nei lo ritira Come sottoprodotto Con Contratto Oppure se c'è Un intermediario Comunque ci sono Delle regole Da rispettare Ma è un sottoprodotto Quindi in fase Di certo Quando si parla Di produzioni Certificate Qual è il concetto Di base Che bisogna Scordarsi Un pochino Di andare Al mercato Come dico io E dire di sì Alla prima camionata Che passa Sono finiti Per chi fa Biometano A quei tempi Ricollegando Mi scusi Posso fare una domanda Se si ricollega Quella che ha detto Però Teoricamente Se c'è una fase Che deve essere Destinata al mercato Una fase Che deve essere Destinata Alla produzione Di energia O di metano Io potrei Ottivare il mais Lo conferisco Ad un Accoleditore E vi faccio Ridare indietro La fazenda Quindi diventa Un ciclo Sì Assolutamente Sì Allora Per correttezza Il tema Della doppia Cultura Che abbiamo visto Prima Ok È per Biometano avanzato Ok Comunque sì Assolutamente E la seconda cultura Che è già Destinata A questo Certo Un altro possibile Esegno Sono gli stocchi Di mais Sì Abbiamo fatto Insieme Insieme Al Cib Un studio Sostenuto Da PSR Si chiama Un progetto Chiamato Mais 100 Poi abbiamo Verificato In vari Cantieri Qua In un'altra Azienda Di Bremona In un'azienda Vicino a Milano Il migliore Di rapporto Dei stocchi Quindi Poi le rese Per ettaro Quanto Metano Possiamo produrre Con un'azienda Con i stocchi Quindi anche Quando Anche da un Marese Per fidelizzare I forzognitori Per massimizzare Davvero L'approccio Circolare Alla 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 Filiera Diciamo così E anche Un rapporto Che ho visto Che inizia A creare Scusi Il forzognitore Deve essere Una persona Che faccia parte Del team Diciamo Della Produzione Dell'intrante Biometano Che va Deve Per trasformare Nudi Quindi Va dal conferente Della Buccia di Comodoro E dice Quanti Comodori Lavori Quell'anno Quindi Con un'ora Io posso Ritirare Il top 100 Della Produzione A In base A questo Si crea Un contratto Tra Delle Tipi Iconici Delle Bucette Che Do Scusi Stiamo Facendo Un esempio Solo Per Per Trovar La Situazione Avanzato C'è Nel Trasporto Nell'altra Situazione Invece Sono I limiti Di verificare La presenza Tra i Terreni In Z Wm Quindi 40% Di quale Si sono In quel territorio Altrimenti Sui Usi Delle Matice No Nessuna No Posso Usare Quello Che Voglio Però La Certificazione Resta Comunque Cioè I suoi Fornitori Li devi Individuare D'accordo Perché Rientra Nel Concetto Di Garantire Sempre La Tracciabilità E La Rintracciabilità Ok E Poi Il Calcolo Un Esempio Concreto Il Mais Per fare Biometano Per i Trasporti Avanzato Non Puoi Usare Punturo Nell'altra situazione Si Ma Comunque Devi Sapere Se non È Di Tua Produzione Devi Avere Il Contratto Con L'agricoltore Che Te lo Dà Ci Sono Delle Verifiche Dei Terreni Su Da Fare E Quindi Devi Sempre Essere In Crabbi Di Mostrare A Rizzoso Che Quell' Azienda Ha I Terreni Per Fare Quei Mais Dal Suo Piano Culturale Perché Poi Si Usano Comunque Documenti Ufficiali Perché Se Ne Devano In Ben Parli Di Gioveni Di Studiare Blockchain Per Lo Scuso Di Propor Il Processo Il Processo Di Fai Tra Spermietà E Lo Stesso Cambia Solo Quale Puoi Usare Poi Cambiano Anche Dei Valori Diversi Sul Il Cero Un Sottoprodotto È Sempre Un Sottoprodotto Ci Vuole Contatto Qual È La Differenza Che Per Gli Altri Usi Vanno Bene Tutti Per I Trasporti Devi Verificare Se Sottoprodotto Oppure Ani Biomasse Avanzate Può Andare Ai Trasporti Perché È Più Facile Garantire La Sostenibilità Perché Raggiungere Il 65% Di 94 Un Po Più Facile Perché Le Le Pressioni Sono Un po' Più Alide Mentre Per Gli Andri Usi Sei Libero Usare Quello Che Vuoi Però Devi Essere Puoi Arrivare A Passo 16 Grammi Quindi Un Pochino Più Impegnativo Che Cosa Aiuta A raggiungere La Sostenibilità Di Questi Sottetnici Perché Hanno Le Emissioni Negative Con La Nuova Direttiva Che Non C'è Il Concetto Sono State Riconosciute Più Di 100 E Passa Grammi Di CO2 Che Sono Le Emissioni Evitate Dal Mancato Stoccaggio All'aperto Delle Fluenti Quindi Aiuta Molto A raggiungere A Passare Le Emissioni Aiutano Non sono Fondamentali Siamo Solo Un Un Fondamentale A Viene No Se Sei In Venerabile Devi Avere 40% In Peso Con Carico Tecnico E L'Evato Ok Ma Ci sta Anche Perché Se Una Donna Tiene Di Elevamenti Capita E Usiamo Sti Esluenti Ok Se Invece Si è In zona Non vulnerabile O in zone Vulnerabili Però Con poca Totecnia Quindi Meno di 120 kg Per Eccolo Di Ardoto Allora Non ho Limite Però Un po' Influente Aiuta Di Effetto A Raggiungere Ad Abbassare Le Edizioni Senza Influenti Comunque È Molto Difficile La Barba Uni È In Revisione Può Essere Che Ci Sia Un Qualche Piccolo Miglioramento Qui Lo Dico Non Ego Così Dire Però Sono Un po' Influente Dovete Mette Tranquilli Perché Insomma Essere Sempre Sul filo Del Rasolo Che uno Risparga Il 79,9 Quando deve Essere Oppure L'80,01 Cioè Insomma No Uno Dove Un Attimino A Qui Le Soprattutto Il Biometano Non Vado I Limiti Dell'elenco Dei Sottoprodotti Che Sono Stati Imposti Per Il Gas Nel Biometano C'è Un elenco Di Sottoprodotti Industriali Oltre I Quali Cioè Al di Fuori Di Quello Il Gestato Non È Considerato Quello Di Inter Ma Il Fuori Da Quella No Non È Fuori Parte Non Ci Sono Tutti I Sottoprodotti Che Sono Nel Decreto Influente Quindi È Più Limitante Sì È Più Limitante Sì Sì Più Limitante Soprattutto Con Il Decreto Perché Con Il Decreto 2018 Eravamo Riusciti Ad Allargare La Quantità Di Sottoprodotti Utilizzabili Per Fare Avanzato Inserendo Anche I Fondi 2 3 Della Fabella Romana Del Decreto 2016 Comunque Questo Decreto Siccome Ci sono I fondi Del PNR E Quindi Europa Quindi Il Governo Italiano E I Italiani Sono Fatti Rigidissimi Hanno Preso Solo La Parte A Dell'allegato Della Direttiva Senza Aggiungere Nuna Stiamo Luttando Per Cercare Di Rialalgare Il Perimetro Di Emissioni Che generano Fortuna Motivazione Che generano No Fortuna C'è Maic Dato E Efficienza Standard C'è Tutta Una Procedura Di Calcolo Alquanto Complessa Contenuta Nel Documento Allora Tutti Nel Dipende Da Quanto Può Essere Efficiente Nel Fare Una Tipologia Possibile Di Minus 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 Allora Su questo Fronte Vi dico Questo Che Nella Direttiva Ci sono Le emissioni Solo Del Mais Ok Noi Come Italia Come Consorzio Particolare Abbiamo Lavorato E Siamo L'unica Nazione In Europa Che Ha Le emissioni Standard Codificate Per le Principali Culture Utilizzabili Sono Codificate L'Oiesa Il Sengreno La Segale L'Aumino Un Sacco Di Colture Qui I calcoli Sono Stati Fatti Secondo Le procedure Del JRC Ma A livello Nazionale Li abbiamo Fatte Fare Da Un Organismo Di Ricerca Competente Che Ha Già Previsto Tutte Le Migliori Pratiche Agronomiche Fertilizzazione Praticamente Intonto Con Il Digestato E Quant'altro Poi Per L'amor Di Dio Se Qualcuno Qualche Aziena Qualche Sementiera Ha Messo A Punto Un Ibrido Particolarmente E Si Voglie Provare A Rifare Le Emissioni Per Vedere Che Sono Più Basse Di Quelli Che Sono Contenute Nella Norma Uni Ci Si Può Sempre Provare Però Sappiate Che Le emissioni Delle culture Inserrite Nella Nostra Norma Uni Sono Calcolate Bene Con Cognizione Di Cognizione Qualcuno Ha Inventato Ma Le Avete Inventate Sono Troppo Bassi Delle No C'è Uno Studio Fatto Di Soprattutto 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 Corretta Secondo I Tritene De Jersey Ma Hanno Passato Il Baglio Del Ministero Punto Soprattutto Ci Possono Essere Importanti Differenze Tra Il Collettivo Il Modo Certo Il Suggerimento Non è Banale Fare Il Calcolo Delle Visioni Sono Calcoli Che Non È Capace Neanche Noi Come Consorzio Noi Non Li Facciamo Li Abbiamo Fatti Fare Perché Non È Banale Se Faccio Vedere Il File Excel Del C'è Lo Aprite E Poi Lo Chiudete Su Come Si Ottiva Sicuramente No Il Sistema Molto Complicato Però Sul Prodotto Sì Perché Tu Usare Le Il Dei Vari Prodotti Utilizzano L'impianto Che Arriba L'analisi Della Soltra Setta Della Quanto Menta La Produce Soltra Nell'alto Tu Inserisci Questi dati Nel Calcolo Utilizzi Quale Resi Quindi Sul Prodotto Puoi farlo Su Come Viene Coltivato Non È Consigliabile Diciamo Che È Molto Utile Avere Quei Numerici Perché C'è Un L'altro L'opera L'esorismo Si Che Ne So Non Interno Più Ma Quando Usiamo Le Emissioni Che Sono Indicate Nella Norma Sono Le Emissioni Standard Come Emissioni Standard Cosa Si Intende Sono Le Emissioni Tipiche Che Hanno Calcolato Cervelloni Maggiorate Del 40% Ok Perché La Direttiva L'Oroco Mi Ragiona Ti Dice Caro Operatore Se Tu Usando Le Emissioni Standard Che Sono Più Alte Del 40% Riesci Comunque A risparmiare Quello Che Io Ti Chiedo Ti Semplifico La Vita Usa Le Emissioni Standard E Non Ti Fare I Calcoli Sulla Tua Singola Azienda Ok Anche Nella stessa Direttiva Le emissioni Della Coltura Non Sono Maggiorate Del 40% Quindi Sono Già E questo Un aspetto Importante Prezioso Mentre Le emissioni Della Sezione Impianto E Upgrading Standard Sono Maggiorate Del 40% Rispetto A quello Che viene Riferito In emissione Tipica Quindi Le emissioni Delle Colture Teniamoci Buone Quelle Che Trovate Già Nella L'Unigente Perché Per ora Si usa Ancora Quella Vecchia E Ci sarà Poi Quella Nuova Mentre Per le Resi Metano Ecco Assolutamente Infatti Benissimo A dirle È importantissimo Già Anche In sede Di presentazione Dei progetti Sapere Quanto Fanno Quanto Biogas Fa La Matrice Che intendete Utilizzare Soprattutto I Soprattutto I Soprattutto Soprodotti Quelle Dei Mais Delle Colture Si Sanno Sono Prodotti Non C'è Quella Grande Variabilità Molto Molto Perché Appunto Ogni Matrice Ha la Propra Emissione Per cui Se Se Rende Di Più Emissioni Meglio Chiaramente Se Sono In Grado Di Dimostrare Quanto Rende Effettivamente Un Particolare Quando Parla Di Emissioni Dall'impianto È Incluso Anche Il Parco Macchine Che Serve All'impianto Non Interessa Niente Il Bello Delle Emissioni Standard Perché Ne abbiamo Volute Nella Norma Uni Il Più Possibile Se Ci Si Riconosce Nella Figliera La Figliera Agricola Nostra C'è Si Usano De Emissioni Standard Punto E Basta Non Ce Ne Frega Niente Di Quanti Mezzi Di Che Distanza Niente Tutta Tutta L'azienda praticate tecniche di agricoltura conservativa o di tradizionale quindi minima e minimo è un soldo minima di base minima 5-6 qui ho introdotto a vedere che l'azienda di azienda è un'azienda fondatrice dell'approccio del biogas fatto bene assolutamente agricoltura, minima lavorazione ottimizzazione della fertilizzazione organica ma è un po' di parola lo diremo grosso delle emissioni dovrebbero contestate all'agricoltura come emissioni di gas terra noi siamo in agricoltura meno del 10% delle emissioni totali assolutamente il problema sono le emissioni di ammonia che non è un'azienda perché nell'agricoltura dell'agricoltura risulta il 10% delle emissioni di ammonia e le emissioni di ammonia che cosa sono? già con il biogas migliora la gestione della stalla perché gli influenti ma li diamo subito però poi è la distribuzione che conta bisogna distribuire bene bisogna distribuire bene dopo l'agricoltura dopo l'agricoltura che hanno una situazione di azienda che ha fatto questo sì, no, ma d'accordo poi con la rete intervatta sì, però io adesso non ho più l'immagine io capisco tutto però vedere su una statale il carbo lotte con i gettoni in alta pressione che distribuisce ma è la metta quello no, eh quello no, ragazzi quello no però è la metta perché se no poi ho ragione non c'è il corso, no? no, ma poi si risparmia con cime veramente ma poi migliora la capacità di ritenzione etica la sostanza organica è prezioso oltre alla topo il posto è più facile a quanto riguardava la situazione al bando sì cioè ci sarebbe quindi un bando per il 2023 due bando due, sì nel 2023 nel 2023 si si chiedeva però di avere il permesso già per sottopertare il bando cioè il permesso vuol dire che ho già avuto la candidabilità del genere no, bisogna avere l'autorizzazione o documento equivalente cosa intendo per documento in caso di fase di procedura amministrativa significata con silenzio assenso diciamo il caso limite perché solo ha l'autorizzazione all'autorizzazione in caso di pass con silenzio assenso devono essere passati almeno i 30 giorni per cui se non sono passati i 30 giorni quella pass non va bene ok quindi autorizzazione preventivo di connessione alla rete accettato se si è nelle posizioni e la verifica della sostenibilità non la cantierabilità non assolutamente sono stata chiara non è necessario avere un esempio l'autorizzazione si il progetto lei deve avere la taglia quali fattori il progetto deve avere localizzato l'impianto perché l'autorizzazione è un sì al progetto presentato in realtà devo dire la cantierabilità cioè devo dire il comune che mi ha dato il permesso per lo sconere l'autorizzazione sì certo certo con cantierabilità in quello sì un impianto per il 2023 conoscito più come i tempi che si vogliono per avere un permesso anche solo la cooperazione cioè lui per il 2023 sarà il comune che fa ma poi c'è partito non è detto perché dipende un po' dal contesto e dipende perché adesso ci sono delle semplificazioni appunto per favorire sono anche la torta su scelta quindi la questione di tempistica dell'autorizzativa però c'è tempo più di 27 no però siccome c'è la diluvoluzione della tariffa la cosa migliore sarebbe di convertire dalla ragazza di papri a partecipare alla banda tanto entro quest'anno però siccome c'è la possibilità di perseguire la scuola significata io dico che è importante avere un progetto fatto bene poi ci segue la tua la scuola significata e quando ti ti potessi muoere o quando si 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 quant'è dipende la snap dipende la cosa che ti potessi muoere la polena rispetto al tuo lavoro di per quanto noi ci do mi assumere quindi magari è stato qualcosa così a parte che passava vicino però dipende dalla situazione anzi per noi è stato un problema perché dovevamo andare all'inizio lavori e entro un anno sono distrutto un'autodivisione e loro abbiano fermato sono arrivati subito a fare lavori e abbiamo dovuto velocizzare tutto però dipende dalla situazione ovviamente devi fare un sacco di scuola e l'arrivo lontana eccetera a livello di la gestione di un pianto è simile a quello di un pianto la predig per imparare l'attività lo so un po' è un processo un po' diverso però rispetto al tuo generatore mediamente le impressioni si ferma meno volte però quando c'è ma è più complicato la radiazione ci mette più tempo ci sono stati un po' più problemi a fare un anche scelta intervista e poi di positivo dire che mentre la produzione di energia elettrica con sistema con generatore sono euro in meno perché perché non rimetti il gas lo stock perché con il concetto di volucimità massima mensile puoi recuperare il giorno dopo poi c'è un massimo mensile con l'agro di consiglio spazionato quindi ok cos'è perché appunto quando si cambia tutto tempo in cui tenerebbero un impianto però poi è un recupero per esempio noi lavoravamo sempre con 80-800 circa di gasolini pieni adesso lavoriamo un processo 25-30 proprio per avere più spazio quindi se si ferma diamo spazio per questo caro un'altra domanda volevo dire sul carbonio che è un po' la sostanza grande quanto ci è stato veramente serva perché negli studi non ho parlato tanto però quello che è stato più interessante vedere era la crescita di qualsiasi indice di stabilità gestato in questa gestione quindi ottimizzata nei vari anni come ho visto a parte le rese in campo perché se parlate con papà noi sono terrenzi soprattutto sappiosi dei nostri delle rese che abbiamo adesso e che aveva 15 anni fa prima di iniziare con il pianto il biogas le rese sono decisamente più alte e poi qualsiasi spazio soprattutto a livello di carbonio organico nei suoli è cresciuto enormemente quindi questo è un esempio di questo che realmente sistema che il gas fa perché la pianta la fa a fotosintesi fissa i carboni nei propri tessuti poi questa pianta viene messa in digestore viene scomposta dai batteri questa pianta si ritorna in gas e indigestata il gas è utilizzato e viene sostituito in questo caso dal gas che andiamo a fare alla macchina che comunque compreremo e lo prenderemo da un gas che mettiamo dal sottosuolo quindi una riserva naturale e dal sottosuolo lo mettiamo in atmosfera qua stiamo prendendo un gas all'atmosfera che fissa il carbonio nei propri tessuti stiamo utilizzando questo carburante per muoverci che è una necessità che abbiamo in più quello che rimane di digestato se utilizzato se utilizzato da maniera vista nel terreno diventa carbon sinko quindi carbonio stabile nel suolo perché il processo di gestione aerobica è un processo che stabilizza di carbonio perché è il carbonio che è più facile che si trasformi più ala vada subito e diventa gas quello che rimane è più stabile quello stabile lo portiamo nel suolo che è l'unico posto in cui il carbonio può rimanere stabile e non è lontano perché l'atmosfera è un gas terra mentre nelle arche ad esempio cilindrica e quindi nel terreno rimane stabile e stiamo portando di nuovo il carbonio dall'atmosfera al suolo è stato uno dei motivi per cui anche questo professore che non avremmo sperato di andare a lavorare con lui quando ha visto lo studio ha detto dai proviamoci vediamo i numeri e anche lui ogni venerdì mentre il professore in Italia ha usato solo lì per rispondere alle periglia dopo tutti venerdì voleva vederci vediamo i dati come sta andando la pubblicazione insomma gli interessi si vedeva questa è la cosa che anche da giovane ha l'entusiasmo per prendere che questo sia stato l'ustice ma infatti guarda che la visione del nord del biogas agricolo italiano è conosciuta come unica e di notevole interesse in Europa perché in Germania se non mettono il mais negli gestori non sanno più cosa metterci sono morti quindi quando mentre un agronomo viene a fare doppia cultura uno dice che abbiamo sempre saputo che fa vedere dove è la limitata la differenza è che adesso la mettiamo nel digestore e poi lo portiamo invece di intervare e poi portiamo al terreno il digestato invece di fare il suo vento quello che è fuori fuori quindi vi hanno dovuto spiegarlo vero il digestio in mille ah ma sfruttate troppo il terreno si fate dato che con voi conosco già non ce l'avevi capito niente il problema è proprio questo che a certi livelli nell'equip no su quelli che scrivono i grandi in retto manca sempre l'agronomo manca poi ho messo a perché l'agronomo avevamo una fila adesso non è qui di moda tra i loro perché ci può lavorare però prima venivano i propri paesani i zannini avevano sempre c'è soggetti i stati c'è stato superato solido e venivano sempre per i ragazzi perché c'è stato solido perché anche loro volando hanno visto che ci sono hanno la loro stacuina non brucia romana così la loro è costituiti di gas quello è l'ostrazione e quell'altro ma stanno ad avere più parallele oppure no è un contratto con una rete che fascia con il metano un contratto con l'utilizzatore quindi metano la corrente la corrente con la fotovoltaico la corrente ma vai a rete con il sinistra ma la corrente è la stessa cosa anche la corrente è vera o no eh sì però non c'è quella che la corrente è vera no se tu ti riguardi un altro da un punto di vista economico quindi anche la fotovoltaico è incentivato la fotovoltaico è incentivato la corrente ma vai a arricchire quello che già c'è aumenti la qualità di quello che ci collegheranno la costa di lì ah che hanno unico certo messi l'oro con il drone aumentare metano se mi fai un contratto con l'utilizzatore torni a metri tocco e leva quindi industriale bene che diceva che si diceva prima che vanno tra sport e che vanno tra sport e l'altra parte che inizio può avere tutti industriali i nostri utilizzatori avvenuti tutti i nostri utilizzatori di casa è un'unica cosa la grande industria è che non ha bisogno di energia elettrica ma ha bisogno di calore l'industria della carta esempio l'industria dell'acciaio non hanno bisogno di energia elettrica meno abilità hanno bisogno di una massa di un fattore nell'ingresso di questi di prodotti che derivano da un biometano che derivano dalla nostra combustione rispetto a quello che arrivava normalmente prima non hanno inizionato delle differenze nei loro carcini il nostro più di qualità il gas della rete che ha detto abbiamo una percentuale di metano più alta più alta così viene pagato di una zatticeo che c'è per poter il tuo gas tutt'opera per zone non hanno dei rapporti di calcolo del finimento sia sulle culture della loro produzione se poi non ci sono che non c'è una circolarità anche di questo da parte loro che producono il grosso di tamposti quindi basta se non ci sono più domande io ringraziando il sindaco e il presidente della fiera di averci ospitato qui do la parola e ai redattori che hanno presentato do la parola a Maurizio Caligari che è un componente della sezione agroenergia e per le conclusioni grazie è difficile concludere con degli esperti così perché effettivamente sono stati chiari ci hanno spiegato prima dal punto di vista tecnico procedurale le cose da affrontare e poi Emilio ha portato la sua esperienza diretta e anche vicina alla realtà in cui stiamo parlando io devo dire che queste cose mi hanno fatto riflettere riflettere perché tante volte riteniamo come una cosa difficile il biometano ma se vediamo delle esperienze vicine che se si fa l'agricoltura in un certo modo se ci si prepara se si fanno tutta una serie di molteplici ragionamenti che vanno che affrontano sia l'aspetto dell'economia circolare sia l'aspetto prettamente ambientale nello stesso tempo che tengono conto che siamo qua per fare impresa che siamo qua anche per affrontare una delle difficoltà che c'è stata e mi sembra che troppo spesso ci stiamo dimenticando la carenza di metano la paura di non avere il metano per riscaldarci e quindi quando io leggo alcuni comitati che si oppongono alla realizzazione di impianti di biometano mi pare che la memoria a qualche mese fa sia stata molto breve ci siamo dimenticati io ritengo che le analisi ambientali che sono emerse qua i vantaggi che derivano dal fare determinate cose siano stati abbastanza chiari nel senso che dobbiamo renderci conto che a far bene le cose il vantaggio non è solo di chi le fa bene ma anche di tutta la collettività perché il concetto che diceva un attimo fa Emilio sull'aspetto del carbonio come si suol dire l'ultima cosa che dici dopo ti rimani in mente quindi sono partito appunto dal carbonio non volevo trascurare tutte le altre cose che hai detto ci devono far riflettere ci devono far riflettere e devono essere anche capite da chi è all'esterno del settore agricolo forse è un errore anche il nostro che tante volte non siamo capaci di comunicare queste cose e quindi cosa devo dire io spero che se gli agricoltori da soli non sono in grado di poter a livello dimensionale a livello di capacità tecnica far da soli abbiano la capacità di unirsi di unirsi di cercare delle soluzioni anche consortili che possano realizzare il biometano e anche un miglioramento in questo modo ambientale perché se il produrre il digestato sulla base di accertati studi ricerche ha comunque un vantaggio ambientale rispetto all'utilizzo del refluo pure semplice è una componente da non trascurare questa io volevo dare una notizia a questo punto la libera associazione agricoltori ha stipulato con il CIV una convenzione nella quale innanzitutto si determina la distanza dal punto di emissione e la pressione di emissione e poi nello stesso tempo e poi c'è un'altra che determina la sostenibilità che sono degli elementi preliminari ad ogni valutazione per poter fare il biometano quindi utilizziamo questa convenzione perché serve per farci capire le nostre possibilità potenziali agricole questo punto per i saluti passo ancora a Paolo e ringrazio Paolo per la brava organizzazione grazie a tutti per averci seguito fino a quest'ora ormai tarda e vi aspettiamo i prossimi conveni dell'Hanga primo dei quali sarà San Carlo in occasione della fiera di Cosa al Maggiore grazie buonanotte